Ciao a tutti da Salutatore, una grandissima sorpresa, qui abbiamo veramente un'attrice straordinaria con due occhi fantastici Sono rimasti quelli Ecco, hai lavorato con i più grandi, non ha bisogno di presentazione, ovviamente Gabriella Giorgelli Ciao ragazzi, io sono qua perché questa sera festeggio il mio nuovo film Nonna mi produce un film, purtroppo faccio la nonna, la Cinzia Bocconotti che fa la nonna Ragazzi, gli anni passano, gli anni passano, però sto sempre in forma Informissima, complimenti veramente E mi trovo qui da amici che ci hanno aspettato e sono felice e emozionata e mi aspetto tutti al cinema Allora, nonna, ci produce un film, un bacio di ragazzi, un ragazzo di 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 una città di una moglie E poi loro intervesteranno, ciao! Ecco qua, ricordiamo un bacio per voi da parte della straordinaria Gabriella e il regista Walter Garibaldi Che feca è la produttrice, Walter Garibaldi e la produttrice Monica Bartolucci E ti ringrazio molto di avere pensato a me Ecco, grazie a tutti e una sorpresa speciale Tu già hai la manina, ma questa è la manina speciale Tu sei l'eccellenza italiana e la manina del salutatore per salutare tutti i tuoi fanni Ciao! Ciao! Ciao, da Cinzia Bocconotti! Ciao!